La lezione di domani sarà dedicata alla figura di Luigi Veronesi. Pare che Veronesi sia stato indicato da Vassili Candisti come il più rigoroso degli artisti italiani ed in effetti Veronesi alla questione dell'astrazione dedicò tutto il suo studio e la sua ricerca artistica, visiva e teorica. Vicino agli artisti del Bauhaus come Josef Alvers, Laszlo Molinage, Veronesi con loro condivise l'interesse per il metodo numerico e matematico come fondamento della composizione pittorica, della fotografia e del film sperimentale. Convinto che questa radice matematica dovesse essere alla base delle arti visive come era alla base della musica e dell'architettura. Attraverso la visione delle opere di Veronesi, pittoriche, grafite e la visione dei suoi film domani cercheremo di comprendere l'interessante teoria estetica dell'artista. Vi aspetto dunque al MAGA alle 17. Grazie. 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 Grazie.